La mafia del Gargano ammazzava sempre d'inverno perché tra luglio e agosto la costa accoglie i turisti, alberghi e ristoranti sono stracolmi, l'Italia conserva intatta l'immagine del paradiso pugliese, dove a due passi arrivano ogni giorno anche migliaia di pellegrini devoti di Padre Più a San Giovanni Rotondo. E il paese non doveva sapere che quel luogo così bello e visitato, meta di centinaia di migliaia di persone in provincia di Foggia, era sotto lo scacco della mafia locale, un tempo chiamata Sacra Corona Unita. Questa era la razza di quella legge sotterranea, mai sangue d'estate, e invece il 27 luglio scorso, nel centro storico di Vieste, i carabinieri hanno raccolto il cadavere di Omar Trotta, 31 anni, pregiudicato, ammazzato davanti alla moglie e in mezzo ai turisti. E ieri la risposta è arrivata con una strage. Sono stati uccisi in una pozza di sangue il boss Mario Luciano Romito e il cognato Matteo De Palma, a due passi dalla vecchia stazione ferroviaria di San Marco in Lamis. Ad assistere all'omicidio da lontano, per caso, però, c'erano anche due agricoltori, i fratelli Luigi e Aurelio Luciani, si trovavano lì perché la zona è vicina alla loro azienda agricola. Riescono a scappare per 500-600 metri, ma è tutto inutile. Gli assassini li raggiungono e li uccidono. E così bisogna aggiornare le statistiche. 12 omicidi negli ultimi tre mesi in provincia di Foggia, 29 morti ammazzati in poco meno di due anni, tentati omicidi a ripetizione. Un'autobomba esplosa nel 2014, una disponibilità di armi da paese balcanico. Eccola la guerra di mafia più feroce e dimenticata d'Italia. Parliamo di mafia foggiana o mafia garganica sicure. Sono più organizzazioni criminali in questo momento in lotta fra loro per il controllo del territorio e dei traffici, in particolare dei traffici di droga, che avvengono in quel territorio, in particolare nel Diestese, che è il punto di approdo della droga che arriva dalla Albania. Oggi intanto, per far fronte all'emergenza, arriva a Foggia anche il ministro dell'Interno Minniti per un comitato straordinario dell'ordine pubblico.